La Vanessa De Simone, volturno che ha battuto il Posillipo nell'ultima partita penultima della regular season. Un volturno comunque in crescita anche considerato la sconfitta col Castelli che forse aveva bruciato un po' troppo. La sconfitta con i Castelli Romani che comunque ha suscitato un bel po' di opinioni per così dire. I Castelli Romani comunque era una partita giocata dopo due settimane comunque di stop. Quindi diciamo che magari siamo arrivati un po' sconcentrati o comunque abbiamo un po' sottovalutato la situazione. Il Posillipo ovviamente dopo una sconfitta con i Castelli Romani non dovevamo ripetere lo stesso errore. La partita è andata bene, certo si può sempre fare di meglio, è inutile dirlo. Speriamo che comunque continuiamo così soprattutto in vista dei playoff. Domenica ci sarà l'ultima partita a Civitavecchia con Cosernuoto che per il volturno suscita sempre dei brutti ricordi diciamo. Però questa volta saranno piacevoli. Ma come vedi proprio la squadra in vista dei playoff considerata anche la lunga pausa che ci sarà tra la fine della regular season e l'inizio della finale? Ma forse la sconfitta con i Castelli Romani ci è servita proprio a farci capire questa cosa. Ovvero anche per giocare i playoff ci saranno comunque due settimane di stop. E quindi la sconfitta contro i Castelli Romani ci ha fatto proprio capire che anche durante lo stop non dobbiamo comunque adagiarci o comunque pensare che ormai le cose sono fatte. Il Cosernuoto sì, due anni fa fu proprio la squadra che ci mandò in Serie B. Quest'anno tra alti e bassi ecco la ruota gira sempre, quest'anno tocca a noi e la partita ovviamente è da vincere. Cerchiamo di fare bene soprattutto in vista dei playoff più che con la partita col Cosernuoto. Siccome diciamo che il campionato almeno nella stagione regolare è finita, chiediamo a Vanessa Desimone qual è il voto sia al volturno sia a Desimone stessa? Ma a Volturno sicuramente è un voto alto per lo sforzo che hanno fatto e soprattutto per il fatto che comunque il Presidente ha creduto in noi, la società ha creduto in noi, ci ha dato fiducia e speriamo di rispondere nel migliore dei modi. Quindi sicuramente la società ha un 9, non un 10 perché si può sempre fare di più. Vanessa Desimone, ma io cerco di fare un 5,5 diciamo, ma diciamo un 6, a una sufficienza ce la diamo.